Disagio in Valtellina e Valchiavenna per la frana di Varenna. Lo smottamento tra Lierna e Fiume Latte nel Lecchese ha sfondato una galleria sulla provinciale 72 poco dopo le 10.30 di venerdì, provocando gravi disagi al traffico in entrate e in uscita dalla valle. La stata alle 36 rimasta aperta in entrambe le direzioni, ma con notevoli rallentamenti, mentre la provinciale 72, che costeggia il lago di Como, è stata chiusa immediatamente. Interrotta anche la circolazione ferroviaria per consentire gli accertamenti da parte dei tecnici. I treni per la Valtellina quindi viaggiano solo tra Milano e Lecco senza proseguire oltre. I treni locali invece da Lecco arrivano a Lierna senza poi proseguire. Un duro colpo per le migliaia di pendolari, studenti e lavoratori che da Milano devono tornare in provincia di Sondrio, ma anche per tutti coloro che invece devono lasciare la valle. Sono in corso le valutazioni da parte delle prefetture di Lecco e Sondrio per gestire l'emergenza.